Allora, adesso ci vogliamo collegare con un grandissimo musicista, un chitarrista bravissimo. Nella sua esperienza, nel suo palmarès, è uno che sta suonando con Bocelli, ha suonato con grandissimi, talentuosissimi musicisti internazionali e io ho il piacere adesso di chiamarlo. Lui si chiama Gino Mariniello, che dal nome sembra Mariniello, sembra Mariniello, sembra Napoletano, ma Gino Mariniello invece mi pare che sia del nord. Ecco, adesso Gino Mariniello, Gino Mariniello, vediamo un po'. E tenteremo di fargli suonare qualcosa alla chitarra. Spiega perché guardi di là ogni tanto. Tu guardo di là perché ho il... come si chiama? Il monitor. Il monitor, esatto. Eccolo. Gino, guarda, ti sei messo... Ah, ti sei messo giustamente... Ti sei messo così, bravo. In orizzontale. In orizzontale. Posso farlo? Sì, in orizzontale. Allora, aspetta un attimo, eh. Bravissimo. Ecco. Com'è? Buono? È buono? Senti, ti vuoi mettere in verticale? Ti metto io in verticale? Sì. Riproviamo a metterci in verticale. Perché abbiamo fatto le prove in verticale e non ti ho avvertito. Proviamo, dai. Proviamo a metterci in verticale. Che meraviglia. Ecco, ti sei fatto male, eh? Sei cascato? Eh? Ti sei fatto... Lo vedi che è cascato? Lo vedi? Lo vedi che sei fatto male? Ti ha spiegato tutto il ciborio. È meraviglioso. Ma che ci frega? Mica siamo in Rai. Lo vogliamo. Com'è? Non ci fare. Com'è? Sono in verticale. Sei molto bello in verticale, eh? Vedi qualcosa? Sì, ti vedo benissimo. Mi registri? Mi registri? Aspetta che siamo tornati. Eccolo. Sì. Eccolo. E noi andiamo dentro lo stesso. Aspetta. Quals'è l'eccellente? Eccoci. Aspetta. Vai. Vado? Vai. Allora, siamo ritornati in onda. Non sappiamo esattamente cosa succede. Anzi, io lo sospetto. Io ho un vicino di casa che è un po' antivadia. Credo che mi stia mettendo i bastoni tra le ruote perché stiamo avendo un grandissimo successo. 14, grazie. Grazie, siete già ritornati. 16. State ricrescendo un'altra volta. Grazie. Ma che meraviglia siete. Grazie, veramente grazie. Grazie a tutti. So che Massimo 5 è rimasto lì. 17. Stanno crescendo ancora. Grazie. È successo. Stanno, non so esattamente, dobbiamo capire cosa stia succedendo. Però non fa niente, siamo ritornati, tanto non abbiamo niente da fare. Quindi possiamo prenderci il tempo meraviglioso che fino a oggi ci è mancato. Dicevamo prima che ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con un grandissimo musicista, che è il grande Gino Mariniello, che adesso è collegato con noi e stava dicendo le sue collaborazioni importanti. Non dico con me, non mi nominare, eh? Non mi nominare. No, tanto, ti conoscono tutti. Ormai sei più famoso di tutti. Senti, come... Ciao a tutti, amici del web. Ciao a tutti. Come sono andate... Le collaborazioni sono, per fortuna, tante. Sono state, e spero saranno ancora nel futuro. E sono da Andrea Bocelli, David Foster, Lionel Rich, John Legend. John Legend pure? Gli italiani, tutti, come sai Marcello, nelle trasmissioni, con quattro anni di domenica in, sono passati quasi tutti. E ho visto pure che hai suonato con Belen. C'è una foto che campeggia sul tuo Facebook, tu che suoni insieme a Belen. Come mai? È Belen perché stavo suonando in orchestra nel programma di Ciaxi Canta da Napoli. C'era Belen Rodriguez con Francesco Pacchinetti. I conduttori erano loro. Come no, certo. E il maestro di orchestra era Sandro Comini. Ma perché lei suona, la Belen... Sì. La Belen ha una voce bellissima, ma suona anche? Sì, sì, si accompagna bene. Ah, vedi? Senti, scusami Gino, ti va di suonare qualcosa? Sì, 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 sì. Dai. Mi volevo suonare un brano del grandissimo Tom Emanuel, mi permetto, non me ne voglio... Tom Emanuel, ricordiamo, è un grandissimo musicista, chitarrista, e un grande tecnico di fingerpicking, giusto? Mi correggi? Sì, sì, esattamente, esattamente, esattamente. Un grandissimo. Prego? Posso, vado? Fai quello che vuoi. Yeah! Sì! 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 Bella questa cosa! Sì! 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 Sei musica di qualità a casa Marcello! Bravissimo! Grazie! Quegli armonici finali erano straordinari! Sei un grande chitarrista! Sei un grandissimo chitarrista! Grazie! Anche perchè più grande di Coggi è difficile! Senti! Scusami una cosa! L'artista con il quale ti... A parte me, Demo Morselli che so che ci ami e ci vuoi bene! Ma l'artista con il quale hai fatto delle cose pazzesche! Ultimamente hai lavorato con Bocelli, giusto? Sì! Sì! Collaboro con Bocelli nel suo CF Night, la sua fondazione Pro Haiti! Lui si adopera molto per Haiti, per portare acqua potabile, cibo... Io credo che lui adesso si stia anche dando da fare per quello che sta succedendo in Italia! Perchè so che molti artisti che possono, insomma, stanno dando tanto! Assolutamente sì! Assolutamente sì! E lui è sempre in prima fila quando deve aiutare! Andrea sì! Assolutamente sì! Maestro sempre in prima fila! Gino, l'emozione più grande con chi l'hai avuta? L'emozione più grande è quando ho fatto il solo di Easy con Lionel Richie! Con lui vicino che metteva la mano sulla spalla! Ottimo! Devo dire che è stato abbastanza importante! E ti credo! Ti credo! Senti Gino, ci vogliamo lasciare con un... Che cosa ci vuoi dedicare? Casa Marcello e gli amici di Diretta Web Teatro e Musica! Cosa vuoi dedicare? Qualcosa di folgorante! Volevo fare quest'altro brano che tu conosci benissimo! Libertango! Come no! Fantastico! Vado? Vai 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 vai! Ti piace Alberto? Luca? Via una varia musica che cambia? Oh no! Qui하는! Lo so, dai! No, 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 no Sei troppo forte Sei veramente un... Grazie Io poi ho il piacere insieme al maestro Devo Morselli Di averti tutte le sere in concerto Io te lo dico sempre, sai che ti faccio tanti complimenti E tu sai che io non sono tenero Grazie Marcello, ti conosco da tanto tempo, tantissimo tempo Come no, certamente Però dico, quello che io trovo di te Che non sei solo un grandissimo musicista Riesci a suonare tutto bene Cosa che nei chitarristi oggi non c'è Chi è specializzato sulla distorte, chi è specializzato sulla classica Sull'acustica, tu suoni tutto bene Quindi complimenti Grazie Marcello Grazie a te, grande onore Grande onore Ti abbraccio tanto, grazie Gino Un abbraccione a tutti i amici del web E anche a voi Ciao Marcello Ciao, ciao, grazie, grazie, grazie tante Ciao Ciao, ciao